Io non so fan cazzo eh! Io so questo, così! A breve sapremo il sito del finanziamento, no? Speriamo bene! Io sto pregando tutte le sere e dovresti fare la stessa cosa anche tu! Porca miseria! Niente, l'unico che chiede i soldi è Donzaro! Cosa? Donzaro o no? Quella è gente pericolosa! Non dici mettere pure tu, ti prego! Non dici mettere pure tu! Ci portiamo a Ferdinando! Sì! Siamo in tre? Certo! Ho deciso! Tu hai deciso! Io no! Basta! Dobbiamo parlarci come se fosse uno di loro! Brava! Uomini d'onore! Dobbiamo fare lo sguardo aggressivo! Brava! Tipo mafioso! Siamo disperati! Siamo disperati! Siamo disperati! Siamo disperati! È finito lo cane a chiedere le soldi! Ma si è che dici? No! Sapete palle! Si può fare diversamente! Ma rendete conto che il truffo ha pensato di farci fare! Ma non ci dobbiamo fingere produttori? Sì! Con la scusa di Brumina Roma fotocopiamo la loro generalità e li frenano! C'è un po' la scusa! 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 Va bene! Carta di identità e codice fiscale è qui! Ma non sono delle cose che si possono poter dire! Ok! Iniziamo! Sì Grazie a tutti i nostri amici Let's fuck in New York, let's fuck in Dubai, let's fuck in Central Bay, let's fuck tonight